Conferenza dei servizi questa mattina per rimettere in carreggiata la vertenza del Denino Morandi, l'istituto scolastico sul Monese, chiuso da sette anni per presunti lavori sbagliati post-sisma. Provincia, Comune e Proveritorato hanno fatto il punto della situazione per arrivare alla progettazione esecutiva, mandare il progetto a gara meglio tardi che mai. La conferenza è stata in realtà aggiornata al prossimo 1 ottobre per acquisire l'ultimo parere a corredore progetto, quello dei Vigili del Fuoco, che al momento risulta assente e tutti gli altri sono stati acquisiti. Il rammarico si trasforma in relativa soddisfazione, bisogna aspettare ancora 13 giorni, ma l'iter è stato oramai definito, ha commentato il consigliere provinciale Andrea Ramonno. Parla di strada tracciata l'assessore comunale Salvatore Zavarella, spiegando che il Comune per quanto possibile farà la sua parte. Il progetto esecutivo redatto dalla Promedia attende che il secondo lotto venga realizzato, secondo le più moderne tecnologie e materiali disponibili, prevedendo la demolizione e la nuova posa in opera di muri perimetrali, pavimentazioni, infissi e impianti, per una struttura sicura e all'avanguardia. Il costo dell'intervento comporterà una spesa complessiva di 4.700.000 euro, sarà concluso in 540 giorni lavorativi, ovvero in poco meno di due anni. Ricorda la provincia che una parte dell'istituto era stato interessato dei lavori di adeguamento nel 2011 per un importo di 4.800.000 euro, poi sottoposto a sequestro preventivo per l'accertamento di presunte irregolarità. A sette anni di distanza da quel 17 ottobre 2014, la scuola doveva e poteva essere già ristrutturata ed operativa. Ora si spera, in linea con le striscioni apparsi nei giorni scorsi, di rimettersi sulla tabella di marcia.